Si sono rimessi al lavoro questa mattina mezzi e uomini della Cogea Impresit, l'impresa che ha ricevuto un chiaro messaggio intimidatorio dai gnoti. Un vetro mandato in frantumi ed una bottiglia con liquido infiammabile sono stati ritrovati ieri mattina all'ingresso nel cantiere da alcuni operai impegnati da più di un mese in un lavoro di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico a Spiano nel comune di Mercato Sanseverino. Il titolare dell'azienda, vicepresidente del Lancia e l'Associazione dei Costruttori, Nicola Olisio, ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri che stanno indagando sull'episodio non avendo a conforto e a supporto però alcun filmato di telecamere di videosorveglianza essendo il cantiere in una zona molto isolata. Intanto operai e impresa hanno ricevuto la solidarietà del sindaco di Mercato Sanseverino, Antonio Somma. I danneggiamenti compiuti la notte scorsa e danni di alcuni mezzi dell'impresa Cogea impegnata nei lavori di messa in sicurezza a Spiano sono un gesto vile e vigliacco che condanniamo fermamente e per il quale esprimiamo vicinanza e solidarietà alla proprietà. Con queste parole il primo cittadino Antonio Somma ha commentato il lancio di liquido infiammabile contro i mezzi dell'impresa. Prendere di mira le aziende che con coraggio e determinazione operano ogni giorno sui territori con sacrificio e con la responsabilità morale di assicurare continuità lavorativa alle maestranze e alle loro famiglie è un atto ignobile, ha aggiunto il sindaco Antonio Somma che sarà sicuramente perseguito penalmente nella forma di reato che le forze dell'ordine accerteranno con indagini, ha concluso Antonio Somma. A lavoro, come dicevamo, per cercare di risalire ed individuare gli autori dell'episodio, i carabinieri di Mercato San Severino guidati dal comandante Carlo Santarpia.